Ciao a tutte ragazze e benvenute a questo mio nuovo video! Allora, sono bella, sorridente e pimpante perché sono appena tornata a casa, sono stata a far shopping, sono uscita circa alle 10 di stamattina e sono tornata a mezzogiorno. Sono andata da sola e ho comprato un po' di cosine. Allora, diciamo che la colpa di tutti i miei misfatti di oggi è stata di una mia collega di lavoro, che diciamo è un po' la mia teacher, la mia maestra, che mi ha detto di questo negozio che io già conoscevo, che si chiama TK Maxx, qui in Inghilterra, e che io sono anche entrata lì, ma ho sempre solo notato vestiti, diciamo abbigliamento. Ultimamente poi avevo notato anche la parte, diciamo, dedicata alla casa. Ma questa mia collega mi ha detto guarda che ci sono anche prodotti beauty, ci sono molti prodotti coreani e puoi trovare anche prodotti molto famosi, che costano anche tanto, con prezzi ribassati, davvero convenienti. Ho detto, vabbè, arriva lo stipendio, oggi è il mio unico giorno libero, ho detto, vabbè, vado a fare un giro, non si sa mai che ci sia qualcosa. Ragazzi, qualcosa è dire poco, perché ho combinato un disastro oggi, giusto per dirvelo. E' questo appunto negozio, vi faccio vedere la bussa, se riesco a tirarla su. Scusatevi, ho fatto ballare, come vedete, stendiamo un velo pietoso, ragazze. Quanto speso, lo so io, e lo sa Caterina, che mi è stata lì col telefono, ci siamo sentite su WhatsApp e avevo i deliri. Quindi sarà un segreto fra me e lei. Sto scherzando, ragazzi, vi farò, ho tutti gli scontrini, quindi vi dirò i prezzi, però non addizionateli fra di loro per capire quanto ho speso. Allora, prima di parlarvi, di farvi vedere cosa ho preso da TK Maxx, vi faccio vedere cosa ho preso da Hollande Barrett. Un attimino, perché ho messo tutto, questo è lo scontrino, ho messo tutto insieme. Perché non volevo un'altra bussa. Un attimino, ragazze, che prendo i prodotti che ho comprato lì. Quindi sono due, quattro, cinque... Dovrei trovare, averne un altro. Non lo trovo. Ragazze, non lo trovo. Scusate, io metto un attimino un po' più di luce. Scusate. Ecco qua, così è meglio, perché vedo che la luce va e viene, quindi vabbè. Ragazze, non riesco due... Oh, sì, li ho trovati, scusate. Perché adesso la luce è così? Scusate, eccomi qua. Allora, vi dicevo i prodotti che ho preso da Hollande e Barrett. Allora, in questo posto qua, vendono tantissimi prodotti biologici, soprattutto nei prodotti alimentari. Prodotti senza glutine, senza lattosio. È davvero un buonissimo negozio per chi ha problemi o vuole seguire un certo tipo di alimentazione. C'hanno anche un piccolo stand beauty, dove a loro interno, dove lì, ci sono tutti i prodotti della Dr. Organic, di tutte le linee. Ecco, ora c'è il sole, sembro che ho un... Ragazze, così non mi viene il riflesso. E niente, dicevo. Quindi c'è tutta la linea della Dr. Organic. Sono andata lì principalmente per un motivo. Quello che dovevo andare a prendere, mi faceva piacere, andare a prendere uno o entrambi i prodotti, c'erano due prodotti che Caterina aveva del canale The Witch Pozioni di Bellezza, che voleva, diciamo, provare della Dr. Organic. So che in Italia comunque la Dr. Organic costa tanto, e quindi mi faceva piacere prenderlo per lei. E quello che ho trovato, lei mi aveva appunto detto, vorrei tanto provare il tonico alle rose oppure quello al miele. Io avrò partita per prenderli entrambi, ma purtroppo non li ho trovati, non ho trovato quello al miele, ma ho trovato appunto quello lì, alla rosa. Questa è un 150 ml, Dr. Organic. Io ho il latte struccante con cui mi trovo benissimo, non c'è alcol, il profumo di rosa è molto molto buono, e spero che appunto lei si trovi bene con questo prodotto. Poi, cosa ho preso? Ho trovato, no, andiamo per ordine, sempre parlando di Dr. Organic e di rosa da mascena, ho trovato la crema per il corpo che ho voluto prendere, questa qua ha la rosa da mascena. 200 ml, ovviamente non ci sono tutti quante schifezze, parabeni, siliconi, SLS, eccetera, eccetera. Mi ero dimenticata di dirvi che tutti quanti i prodotti che ho preso, che sono in totale 6, erano con il compri uno e paghi l'altro, il metà prezzo. Quindi adesso non so come sono stati inseriti, ah no, qua, i due prodotti alla rosa sono stati inseriti insieme, quindi comprando questo prodotto e questo prodotto, nel totale ho salvato 4,50 pound, quindi li ho comprati soltanto, non so quanto, non c'è scritto, ho comunque con l'acquisto di questi due risparmiato 4,50 pound. Questa qua la volevo provare, ho notato che comunque manco un pochino di prodotti per il corpo e ora che mi sono presa molto l'abitudine con le creme Buri Scrab, volevo appunto andare a provare, a comprare qualcosina. E quindi quest'altro. Poi, sempre dottor Organic, ho preso due prodotti della stessa linea, questi due. Questo qua è l'Organic Tree Tree Deep Pore Cleansing Face Wash, quindi questo qua è praticamente un gel lavante appunto, un gel detergente, da 125 ml, e poi ho preso questa qua invece, che è la crema, la cremina in tubetto, da 50 ml, della stessa linea appunto. Questi due, li ho comprati 6,99 pound l'uno, quindi al posto di 12, di 13 e qualcosa, e ho salvato 3,50 pound nell'acquisto di questi due. Infine, ho un altro prodotto dottor Organic, che è un prodotto Lavera. Ho trovato per la prima volta la linea Lavera Basis Sensitive, della marca Lavera loro hanno soltanto questa linea, ma di solito si trovavano proprio due prodotti precisi, mentre oggi c'era tutta la linea. E ho comprato di questa appunto linea il Cleansing Milk 2 in 1, mi servono anche cose struccanti, perché truccandomi tutti i giorni mi serve qualcosa sempre, consumo molti, molti struccanti, quindi, scusate, questo qua è all'olio di jojoba e al burro di karité, e questo qua l'ho comprato 7,69, e poi questo qua ho comprato, cioè il body butter al miele di manuka, quindi questo prodotto per il corpo della dottor Organic, che invece è costato 8,49. Questi due prodotti insieme, questi due prodotti insieme, ho salvato 3,85 pound. In questo posto ci sono molto molto spesso queste offerte del 2x1, oppure compri uno e l'altro lo paghi la metà, eccetera, ed erano tutte sul beauty, solo che naturalmente, essendoci la scelta di pochi prodotti, non ero appunto, ed ero già stata da altri K-Max, ho preso soltanto qualcosina per poter approfittarne un po', appunto il tonico per Caterina. questi sei prodotti sono gli unici che ho comprato da Hollande Barrett, il totale che ho pagato è stato 36,34, vi faccio vedere, ma era 37,09, ho avuto 75 centesimi di sconto, ecco, e alla fine ho pagato questi qua, 36,34, e niente, fuori uno, andiamo alla parte buona, è la parte stupenda dello shopping, che ho comprato, ragazze, un sacco di make-up, io lo smaltirò fra 150 anni, a 90 anni mi metterò il rossetto rosso, cioè, una cosa assurda quello che ho comprato, cioè, io, Caterina, te lo dico, perché tanto lo so che stai guardando questo video, aspettati di ricevere qualcosina, anche fra le cose che faccio vedere qui, perché, io, presa dalla foga, avrò anche comprato qualche cagatina, nel senso che non è adatta magari alla mia pelle, o ai miei colori, e quindi, aspettati, ecco qua, TK Maxx, ragazze, questo è lo scontrino, tutto arancione, qua purtroppo, allora, i prezzi sono tutti quanti nelle confezioni, l'unica cosa, la prima cosa che vi faccio vedere, sono un paio di scarpe, che ho preso praticamente alla fine, sono rimasta lì, due ore e mezzo, ragazze, e le prendo, e non le prendo, e le prendo, e non le prendo, solo che, ho notato, cioè, queste scarpe mi piacevano tantissimo, tra l'altro, in questo posto, come anche per l'abbigliamento, no, scusate, come anche per il beauty, nell'abbigliamento, hanno anche grandissime offerte, di marchi importanti, a prezzi stracciatissimi, e io ho voluto comprare, questo paio di scarpe qua, della Guess, vedete, Guess, e praticamente, come si vede dal palloncino, qui, ho avuto intanto il culo, scusando l'espressione, che erano l'unico paio, perché appunto, sono campionari, praticamente, ed erano del mio numero, li ho anche provati in negozio, e li ho comprati, a 29,99, quando invece, ora qua, il cosino si è tolto, si è staccato, quando invece, il prezzo di queste qua, era di 95 pound, quindi, 95 pound di scarpe, io li ho comprate, soltanto 30, ovviamente, sono nuove di negozio, ecco, mi sono piaciute, perché sono nere, sono alte, sono sportive, e sono comunque da tennis, e un paio di scarpe da tennis, diciamo, buone, nel senso, non di battaglia, mi mancavano, quando ho visto queste, me ne sono innamorata, con questi dettagli dorati qui, sono molto, molto giornaliere, io uso anche molto gli stivali, ecco, però magari, se non piove, tipo oggi sono uscita con gli stivali, all'inizio pioveva, oggi, ora c'è il sole, però voglio dire, anche quando, magari, esco a fare un giro, con queste qua, magari risolvo, ecco, sono molto sfruttabili, anche al lavoro stesso, perché comunque, non so, cioè, sono molto eleganti, sono lucide, sembrano appunto, di pelle, sono molto, molto eleganti, per essere, delle semplici, scarpe da tennis, e quindi, mi sono dilungata, 5 minuti, ma, per dire che, mi piacciono, e che le ho pagate, per me poco, fuori uno, le metto qua, così ci fanno compagnia, poi, oh mio dio ragazzi, non so da dove cominciare, allora, ho preso, questo set, di, intense color matte lip gloss, rich color matte finish long lasting, e ho preso, questo set, di, 3 lip gloss matte, a, 5,99, apro con voi ragazzi, perché voglio vedere i colori, era tutto, ragazze, praticamente, con lo scotch, perché, praticamente, le persone, sono davvero, non so, degli, degli animali, alcuni, senza offesa, veramente, per gli animali, perché, tutte le cose che c'erano, erano, la maggior parte, erano, anche prodotti interessanti, ma, praticamente, erano tutte quante cose aperte, sporchissime, io mi sono dovuta, poi, lavare le mani, cioè, con la salvietta, quando sono uscita dal negozio, perché, andando a cercare, fra le redaction, c'era un casino, c'è tutto sporco, aperto, comunque, i colori sono questi qua, sono tutti quanti colori, molto, nelle mie corde, a parte, questo arancio qua, che, non so cosa ne farò mai, però, vediamo un attimo, allora, questo arancio, non lo apro neanche, e me la penso, volevo vedere questo, perché, questo colore qua, mi ha incuriosito molto, perché, voi lo vedete, un po' violetto, eccetera, ma, questo qua, è un, vediamo, se diventa matt, questo qui è il colore, comunque, per ora è lucidino, però, fanno un ottimissimo profumo, ragazzi, devo essere sincera con voi, vediamo un po', questa qua, è della marca, Cherry Tree, Cherry Tree, questa marca qui, costavano poco, volevo semplicemente, provarle, ora, vediamo in quanto tempo, si asciuga, perché ci sono colori, ad esempio, mi sboccio un altro, ragazze, questo video, ragazze, durerà non so quanto, cioè, mettetevi comode, la pizza, lasciate perdere i fidanzati, perché, veramente, questo è anche molto bello, il secondo, ragazze, vediamo un attimo, come, fungono, allora, questi qua, li levo dal, perché, faccio, scusate, ma, mi metto anche qui, con voi, a fare queste cose, perché, questi si buttano, quindi, 5,99, per adesso, sono ancora lucidini, vediamo un po', però, il colore, ragazze, c'è, si vede molto, poi, un altro set, che ho preso, l'ho preso, questo qua, nel reparto, redaction, quindi, al posto di, 3,99, l'ho preso, soltanto 3, non che ci sia, tutta sta redaction, ragazze, ma, va bene così, scusate, io, mi allontano un attimo, perché, c'è tutto con lo scotch, perché, giustamente, si sono messi un attimo, a dire, mettiamo tutto con lo scotch, così, nessuno apre le cose, scusate, eccomi qua, tanto qui siamo, ragazze, a casa, è come se fossimo a casa mia, tutte insieme, a farci una chiacchierata, e ho comprato, e ho comprato, questo qua, della W7, che è una marca molto utilizzata, qui, e ho comprato, appunto, questo set, il pennello, che sembra molto, è molto morbido, ragazze, è anche molto carino, con il bronzing, il bronzing powder, non ditemi che lì, che è in polvere, perché? No, no, ragazze, non va bene, questo qua, è il bronzing powder, vedete che è in proprio polvere, è onululu loose, questa qua, appunto, è la onululu, vediamo di aprirla, senza far, magari, senza che io debba passare l'aspirapolvere, perché mi metto a urlare, ecco qua il colore, ragazze, ora non esce, perché appunto è coperto, però è una, un bel, una bella terra, ecco, vedremo, l'ho presa, ragazze, perché costava soltanto 3 pound, con il pennello, quindi, erano carini, e mi faceva piacere, ecco, 3 pound, veramente, nulla, ragazze, si sono asciugate, guardate, sono molto, molto belle, passo il dito, e niente ragazze, questo è stato un acquisto, poi vediamo sulle labbra come si comportano, andiamo avanti, perché c'ho l'interno da farvi vedere, 20 minuti, no, vabbè, scappiamo, allora, ho preso questo mascara, a 2 pound e 99, questo qua è il Pro Artist Mascara, non so bene di che marchio sia, ragazze, onestamente, tutto, tutto a terra, ragazze, e questo qua è il mascara, io uso tantissimo mascara, ragazze, quindi, ne ho sempre bisogno, infatti ho comprato anche questo qua, lo Scandalize Retro Glam, questo qua, io li levo tutto proprio dal, li levo proprio dal, dal scatolo, ragazze, perché non ho tanto spazio, ora vorrei vedere, io dove devo andare a mettere tutte queste cose, ecco, ve l'ho detto quanto l'ho comprato, questo qua l'ho comprato 4,99, color black, poi ho comprato questa spugnetta, la Flawless Blend, a 3,99, io mi trovo molto bene ad utilizzare la spugnetta, ragazze, però quella là che avevo, l'ho dovuta appunto buttare, perché era proprio, cioè, proprio scadentissima, ma di più, non la riesco ad aprire, e questa qua è la spugnetta, l'ho comprata appunto, con questa zona, così per poterla utilizzare, nella zona del contorno occhi, più vicino al contorno occhi, questa la lascio nella sua scatola, poi ho preso questo set che volevo troppo, questo set si chiama Make Up For Ever Limited Edition Artistic Essentials, ci dovrebbero essere 5 prodotti, e l'ho comprato 12,99, oddio, no ragazze, no ragazze, guardate che meraviglia, c'è il cofanetto di latta, non lo sapevo, allora, qua spiega appunto come utilizzare i prodotti, e ora ve li faccio vedere, naturalmente sono mini size ragazze, niente di particolare, allora, c'è lo step 1, che è una base idratante, un primer, poi c'è questa qua, che invece è la famosissima, che io voglio provare da un casino di tempo, la Cipria HD, quella là trasparente, poi c'è questa qua, che è la Professional Paris, questo qua che sarebbe secondo me il Kajal, poi c'è questo qua, che è l'Excessive Lush, una mini size di mascara, e poi c'è questa qua, che invece è una mini size, di questo bellissimo, credo lip gloss rosso, il cofanetto di latta ragazze, è bellissimo, questo lo metterò qui dentro, questo cofanetto di latta, è davvero bellissimo, immaginavo fossero all'interno soltanto, diciamo normalmente i prodotti, in quei, diciamo, messi lì nella plastica, ecco, però questa qua è una cosa molto molto bella, e poi un altro mascara, questo mascara 3,99, questo qua è della marca Cherry Tree, che è la marca appunto di questi qua, anche qui andiamo a togliere, ve l'ho detto sì, 3,99, questo qua è il mascara, è tutto lucido ragazzi, quindi, non appunto vedrete nulla, poi ho preso questo qua, questo qua, il Revlon Photo Ready Insta Fix, allora, questo qui è un fondotinta in stick, vi faccio vedere, questo qua l'ho comprato, 5,99, nella colorazione 130, è Shell Coquilage, quindi questo, poi, voglio prendervi un attimo tutto il mascara, tutto il mascara, tutto il makeup, e poi passiamo a qualcosina di skin care, ok, allora, prodotti di makeup, gli ultimi sono questi 5, allora, ho preso questo qui, ha soltanto 2 pound, ed è il NYX, High Voltage Lipstick, Rouge Allé Vraie, Sur Voltaire, credo ragazze, non saprei, comunque, è un bellissimo rosso, questo qua, ecco, soltanto 2 euro, l'ho voluto prendere, ecco, possibile aprirlo, ragazze, poi ho preso un altro rossetto, in questo caso sono stata catturata dal packaging, questo rossetto della Revlon, a soli 2,99, e ho comprato il numero 040 Red Velvet, andiamo un attimino, questo qua ve lo apro, e ve lo sboccio, eccolo qua, faccio un attimo vedere, eccolo qui, questo, è un proprio, un balsamo questo qua, ragazze, non credo sia proprio un rossetto, ecco, è proprio un balsamo, poi queste, le etichette le tolgo, ragazze, perché se mi metto anche qua nel video, a levare le etichette, ci sbrichiamo domattina, e poi ho preso tre rossettini, matte, tutti a 3,99 l'1, della Topshop, ho preso il color Scent, il color Scent, vediamo un attimo, fatti così, questo qua, questo nude, pensavo fosse un attimino più scuro però non saprei poi bisogna vedere sulle labbra ragazze poi ho preso il Devotion si mettono qua che è questo ve lo metto di lato eccolo qua a me piacciono tanti viola ragazze questi qua dovrebbero risultare matt quindi vediamo e poi ho preso Hazard che invece è un rosso dovrebbe essere un rosso ed è un rosso ecco qua quindi questi tre qui in questo packaging che comunque è molto carino poi sempre da TK Maxx ho preso alcuni prodotti beauty vi volevo far vedere questo ragazze perché io li devo aprire veramente per forza e sono queste sono delle maschere praticamente sono sei maschere che io ho comprato al prezzo di 6,99 e sono delle maschere in bustina singola qui e sono due all'olio al latte di cocco due al latte di mandorla e due al latte di soia e a parte il packaging che è carinissimo io vi volevo far vedere perché io appena le ho viste ho detto vabbè le devo per forza per forza prendere vi volevo far vedere che le maschere qui all'interno sono fatte così proprio all'interno si vede la maschera trasparente quindi appunto olio di cocco queste due sono al milk coconut milk almond milk e poi soy milk e comunque se i maschere a 7 pound non è male ero veramente troppo curiosa queste qua non le vorrei proprio neanche levare da questa casettina veramente sono troppo troppo carine credo di queste qua comunque di mandare una di mandare qualcosa a un'amica poi andiamo avanti ho preso quest'acqua micellare della Paris Evoluderm questa qua al prezzo di 2,99 semplice acqua micellare ragazze poi ho preso come maschere ne ho prese altre due ho preso questa qua della alba botanica ha un pound e 99 questa qua è anti iporlegienica è una maschera in tessuto senza parabeni ftalati e fragranze sintetiche 100% ingredienti vegetariani questa qua è la camu camu anti wrinkle e poi ho preso questo pacco della farmaci della marca farmaci al posto di 9,99 l'ho presa solo 5 e sono le maschere firming ci sono tre maschere all'interno e io ho preso le firming activated braflavonoid rich celery extract quindi questa qua poi ho preso un prodotto della della rom paris questa qua so che sono prodotti che sono molto costosi io l'ho comprato soltanto 4 pound e parlo di una maschera esfoliante per il viso eccola qua questa la levo dallo scatolo ragazze perché fa solo spazio da 50 ml poi ho preso questa qua no allora poi ho preso questo body butter il burro per il corpo alla vaniglia olio di cocco olio di argan e burro di karité della andalou naturals questa marca qui l'ho comprata a 5,99 per 236 ml questa qua ha un ottimo ottimo inci è strano che non abbia certificazioni ragazze verificata a gluten scusate ragazze ma si è stoppato il video perché avrò parlato per circa mezz'ora io nelle impostazioni ho il diciamo il senza limiti ecco ma non so perché mi accade sempre sta cosa comunque dicevo vi stavo parlando di questa crema qui per il corpo della andalou naturals e stavo leggendo le certificazioni non mi sembra che ne abbia ma l'inci è semplicemente ricco di cose essenziali ecco di oli essenziali appunto il prezzo era 5,99 per 236 ml l'ho presa perché ha davvero un ottimo inci e volevo delle creme per il corpo poi vado ho preso questo scrub questo qua è l'hot sugar scrub gommage questo qua è della sanctuary spa covent garden questo qua è un semplice scrub da 550 grammi che io ho comprato 5,99 al posto di 12 questa marca la conosco non è nulla di nulla di bio ecco ma lo scrub alla fine io me lo vado a sciacquare e poi ho preso due prodotti della stessa marca questa aroma active skin care ho preso questo prodotto a soli 2 pound ed è un cleansing and brightening balm da 150 ml questo qua praticamente è un gel detergente al rosmarino burro di cocco no burro di cacao scusate e avena e quindi promette appunto una pulizia profonda soli 2 pound e poi ho preso a 3,99 questo qua sempre aroma active cleaning toning facial wash questo qua è anche un gel detergente però questo qua è all'eucalipto alla lavanda e al juniper questo qua invece è più adatto per il mio tipo di pelle perché ha un effetto più purificante rispetto all'altro e infine ho preso gli ultimi 3 prodotti e poi ho finito con questo che sono 3 prodotti della stessa linea per creare una sorta di skin care completa la prima cosa che ho preso è questa mousse cioè questo gel a 3,99 della organic surge del care questo refreshing face wash con estratto di rosa e geranio avrà un profumo credo spettacolare comunque questo qua è un gel come vedete dall'immagine un gel appunto detergente e poi ho preso sempre a 3,99 il perfecting face polish questo invece è all'olio essenziale di limone e di rosmarino che serve appunto è proprio uno scrub vedete dove ve lo posso far vedere ecco qua tutti i granulini e questo qua è un 75 ml e infine ho preso sempre della stessa marca la crema notte questa qua è per pelli sensibili ma è all'estratto puro di lavanda la lavanda è un prodotto che mi piace molto soprattutto per il mio tipo di di pelle perché non va a seccare la pelle ma nel frattempo ha anche un'azione buona antibatterica eccetera questa questo qua è come si presenta la crema quindi ah e scusatemi questo non mi sono dimenticata di dirvi che questi tre prodotti qui sono certificati ecocert vi faccio vedere ecocert ecocert ed ecocert quindi questi qua sono certificati ecocert ragazze quindi sono prodotti biologici con la certificazione e niente questi qua sono tutti i prodotti che ho comprato da TK Maxx e all'inizio appunto vi avevo fatto vedere quelli lì comprati da Hollande Perret adesso l'ultima cosa rimasta sono i prodotti comprati da Tesco Tesco praticamente è un supermercato ragazzi io ero andata a prendere il caffè ero entrata per questo voi lo sapete voi non lo sapete scusate non lo so cosa stavo pensando è un semplice supermercato ma i supermercati sono anche la mia rovina voi vedrete volevo dirvi dei prodotti cioè vedrete il caffè qui perché veramente lo volevo comprare comunque ci sono e stanno iniziando ad esserci tutti quanti i set di Natale ragazze il che mi preoccupa perché io non posso andare da nessuna parte e ho comprato questo set a 6 pound con 4 bagnoschiumi e 2 creme corpo ve li faccio vedere ragazzi perché tanto qui butto tutto allora abbiamo il primo allo shia butter non ho più posto più posto secondo shower gel al cocco all'olio d'argan e questo qua che sarà buonissimo al cherry alla ciliegia e poi ho queste due body lotion che mi sono piaciute tantissimo cioè sono troppo sfiziose perché si presentano così in questi tubetti molto carini tipo le tempere shia moisture e argan oil quindi shia moisture shia butter scusate il burro di karité e l'olio d'argan da 50 ml sono molto carine ecco nulla di bio ragazze assolutamente nulla di bio poi ho preso quest'altra confezione questa qua l'ho presa 2 pound e 13 una cosa del genere mi ricordo i prezzi perché è l'ultimo posto dove sono stata questi qua sono dei burri dei burri dei mini diciamo burri ecco vi faccio vedere e ho il burro ups il burro alla ciliegia queste qua sono ragazze troppo carini nulla di bio ragazze assolutamente vi ripeto argan chia butter quindi il burro di karité e il cocco poi come vi dicevo il caffè la pazza è qualità rossa ragazze un minuto di silenzio perché ho trovato la organic shop da tesco ho trovato nel senso c'era solo una maschera per capelli e lì shampoo allora ho preso la maschera per capelli questa qua all'avocado all'avocado e al miele sto perdendo tutto ragazzi non so più e lo shampoo al borago e sandalo shampoo volume poi ho preso questo che è appunto lo struccante bifasico della Nivea mi serviva ragazzi uno struccante bifasico perché metto tanto mascara e ne ho bisogno e poi ho preso l'altra un po' di tempo fa avevo comprato questa mousse tutta quanta blu però della Nivea sotto la doccia quella lì era normale al profumo Nivea mentre questa qua è all'olio di mandorle è la stessa identica cosa però appunto l'ho voluta prendere perché è all'olio di mandorle e la mandorla mi piace tantissimo infine ragazze ho preso una marca di questa però vi dico i prezzi perché non li ricordo allora body scrub allora ho trovato questa marca qua che si chiama super duper questa marca qua che fa prodotti senza parabeni coloranti oli minerali e qualsiasi altra cosa sospetta questa scritta mi ha fatto sorridere sono 300 ml 300 ml vi faccio un attimo vedere qua c'è lì l'inci si ragazze non è male a parte praticamente come ultimo ingrediente il disodium edta però appunto ho preso questo scrub che è al ginger e al sea salt quindi al sale marino come scrub poi ho preso un altro scrub sempre 5 questo qua è il fruity green tuberous questo scrub questo qua è senza parabeni sls 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 coca mid dea coloranti mite derivate animali questo qua è cocco ananas e frutta questo scrub poi non ho spazio mettiamolo qua poi ho preso questo body wash molto carino quindi bagno schiuma da 500 ml da 500 ml questo è fatto con vaniglia e burro di karité al 97% di ingredienti naturali senza parabeni e sls sls coloranti questo qui coca mid dea e nient'altro e questo qua l'ho comprato 4 pound e 33 ero curiosa di trovare ragazze boom proprio tutto e infine ho comprato della stessa linea del bagno schiuma anche il body butter quindi il burro corpo sempre questa qua è per la formula per pelle veramente secca e questa qua mi sarà utile soprattutto sulle gambe quando appunto si farà inverno perché sulle gambe mi si seccano proprio tantissimo ecco qua e niente ragazze questo qua è tutto non oserete vedere cosa c'è sopra il tavolo perché è davvero una grave situazione quindi non lo so ragazze devo andare a sistemare tutto devo continuare a far video devo mangiare in tutto ciò quindi non so sono rimasta con tutti gli swatch come vedete sono colori più o meno simili ho preso perché alla fine prendo sempre quelli questi qua comunque sono rimasti molto cremosi molto confortevoli mentre queste qua le tinte si sono asciugate e non vedo l'ora di provarle ragazze queste due tinte le due tinte della della Cherry Tree se questa marca si dovesse rivelare buona vediamo un po' e niente io vi saluto ragazze e vi vado a mettere a piangere in un angolino non sto scherzando sono stata molto contenta ragazze veramente soddisfatta di questo di questo giro di shopping adesso non vedrete più video ragazze perché proprio non credo sia proprio il caso di comprare altro sono già piena di scorte anche vero che sto ingranando e cominciando a smaltire davvero tanta roba ma questo non toglie che sono ancora piena di prodotti giusto ieri ho sistemato diciamo la zona dove li tengo e adesso andare ad aggiungere questi è un problema perché lo spazio era preciso preciso comunque la cosa che mi fa piacere è che ho fatto comunque scorta di prodotti per il corpo che erano quelli che mi mancavano quindi di creme corpo di scrub che non ne avevo bagno schiumi segniamo un velo pietoso ragazze come anche per il viso e soprattutto ho comprato anche prodotti per lo struccaggio o comunque per la detergenza qualche mascherina che non fa mai male e niente ragazze vado a sistemare tutto mangio qualcosina e poi riprendo a registrare sì adoro queste scarpe non so se l'ho già detto e niente vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao